Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono Smith Terry e eccoci qui per un episodio di chiacchiere ad hoc con Smith Terry. Oggi andrò a parlare Resident Evil Village. Mi sto dicendo che io la serie di Capcom Horror Resident Evil non sono mai stato un grande fan e sono iniziato a giocare da poco, perché da piccolo ero molto suggestionabile, quindi evitavo a giocare horror che poi li rivedero la notte e non volevo essere seguito nei miei 6-7 anni, 8 anni che sia. Comunque, in questi ultimi anni ho provato Resident Evil 2, Resident Evil 3, presto provo anche Resident Evil 7 e avendo Resident Evil 8 Village, sono davvero euforico, ragazzi, c'è uno vero euforico. Goto come dice che sembra essere un gioco meraviglioso e queste serie di Resident Evil in questi anni mi apprezzò perché, sì, non sono davanti l'ora, ma c'è un grande lavoro dietro, un ottimo gioco. I James Crack in aria che, ok, sono un po' a volte possono essere anche divertenti, ma insomma è un gioco che è davvero straordinario, magnifico, una serie che meno rispetto e che, come ha lavorato in questi anni Capcom, penso che sia, a prendere esempio anche per altre case software house che provano a fare magari qualche remake, qualche restyling da zero. Insomma, Capcom, ne vero, mi ha perso con Resident Evil. Ma ora, lasciamo stare questo lungo preambolo e andiamo al succo, a Resident Evil 8, ossia Resident Evil Village. In questi giorni sono stati molti trailer, il quarto loot è uscito da poco, è uscito qualche giorno fa, e abbiamo avuto anche due demo, una per PS5 e una per entrambe le console. Trailer e demo che ci hanno dato un grande sguardo a questo gioco e che ci fanno sentire e sperare bene in questo gioco che dovrebbe essere il primo gioco, il primo prodotto videoludico per nuova generazione che andrà davvero a farci sentire in nuova generazione. gioia che è uscito da poco, caso anche Covid, non sono stati migliori, sono stati né tanti, né tanto potenti, graficamente. Cioè, il salto generazionale, ok, difficile fare un salto generazionale, è subito un impatto, ma una nuova console che si presenta come molto più potente, 4K, per Santa Fe, insomma, una console che dovrebbe essere già più potente rispetto alla version 4 Pro, l'ultima uscita, e questa tanta differenza non si è sentita, ma vedremo se con Village, diciamo, assaggieremo per prima volta la nuova generazione. La storia, la storia che abbiamo conosciuto prima appena con i vari trailer e anche quello che ci hanno detto, insomma, è una storia che segue gli eventi di Resident Evil 7, infatti le persone saranno provenissime, saranno Idan, che ricordiamo che Resident Evil 7 era colui che era stato con mia, c'era la famiglia, che è un poco, diciamo, non fino a normale, un poco ravagliata dagli eventi che sono accaduti, insomma, questi due ragazzi che sono, anzi i due sposini, sono una coppia Withers, che sono scappati e si sono crede una vita nella zona dell'estropa, una vita normale che va bene anche a una bambina, ma poi tutto, tutto viene messo sotto sopra dall'arrivo di un personaggio in particolare. La persona in questione è Chris Redfield, che fa parte del gruppo dei stars, che arriva lì di botto, tum, ammazza Mia e rapisce la bambina, lasciando però Idan in vita. Vedremo poi, perché, ovviamente, il gioco ci viene da un personaggio e chi, se non è Idan. Magari ha ucciso Mia, appunto, verso collegamento con la famiglia, che è stata, anche lei, appunto, deviata, diciamo, modificata geneticamente dagli eventi, da quell'avviso che è stato lì, quindi magari lui l'uccise per questo motivo, non lo so. Sembrerebbe essere lui cattivo, magari il gioco ucciderà altre delucidazioni su Chris Redfield e su suo ruolo in questo gioco. Così Idan viene catapultato tutto il getto di botto in una fight e una guerra, con tante fazioni. Intanto arriva in un villaggio all'estropa, creato davvero in maniera ottimale, e che appunto la zona ci permette a Capcom di usare certi miti del luogo per creare nuovi nemici. Per esempio il mito dei vampiri, storia dell'astropolo, buca dell'astropania, c'è lì il mito di Dracula. Ma andiamo con ordine. Idan che è in questo villaggio è che è disabitato. Lì trova pochissime persone, soprattutto trova un mostro, dei mostri, anzi in realtà davvero dei ribili cantri, che danno la caccia a lui e con queste cose si muovono. Lui che renderà in contatto con i pochi paesani che sono diffidenti da lui, mentre lui era uno straniero, ma che sembrano far parte di un culto, di un culto diciamo religioso per Mare Miranda, la donna che ha protetto per anni il loro villaggio e che sembra ora abbandonarli. Ma tutto di botto, tutto finisce. Comunque ritornando sempre al gioco, Mare Miranda è questo forse un gioco criptico, chissà mai, e che in altri titoli viene arrivata come una donna gigante, forse anche più alta, e Darn è molto terribile, che sembrano quasi dei vampiri, che con questo culto sembra essere vampiri del luogo, che però rispondono a qualcuno, infatti il mio caso Miranda ha anche parlato con qualcuno dicendo non ti deduderò, e quando Miranda entra in contatto con Ethan, ma Miranda pensa a lei, ma insomma la donna entra in contatto con Ethan, parla di come suo fratello abbia fallito ma lei non lo farà. E altro personaggio che è stato in Anico e Sotere è quel strano uomo che ha le fattezze simili a Vanessi, per il vestiario, per l'autofit, per gli occhialetti, che sembra essere a capo, insieme a questa donna, dei mossi del luogo, sia dei licantropi che dei vampiri. Quindi Ethan verrà scontrata in questi due esseri, in più c'è, diciamo di parte, da parte sempre il caro Chris, che non sappiamo realmente cosa sarà, cosa farà, se sarà contro Ethan totalmente, o se magari fa solo il gioco perché è controllato dalla donna, insomma, vedremo un po' come si sviluppano i vari personaggi, i vari nemici del popolo Ethan. Insomma, una storia davvero a volte anche innovative, nemici diversi, nuovi, insomma, una storia che girava tutto intorno alla figlia di Ethan e di Mia, che si parla di un suo legame a una tradizione, una predizione, insomma, qualcosa che richiedeva anche a un sacrificio da compiere, quindi vedremo perché la figlia di Ethan è così importante, forse è proprio il suo legame con Mia, o forse sicuramente è l'unica umana straniera, perché sono loro gli stranieri che vengono fuori, sono fuori la villania, che sono gli unici che possono essere sacrificati in questo caso. Però, perché appunto la bambina non ha altri? Per Reno, sempre per Reno. Insomma, tanti trailer, due gameplay che ci hanno davvero fatto annusare questo gioco e che aspettando dati il 7 maggio, sperando che sia nessun rinvio possibile, ma sembra che il 7 maggio sia la sua data, vedremo questo gioco risentivo 8, che sta per me davvero l'apice della capo della serie risentiva, perché stanno uniti per me molti tasselli, magari le varie storie risentive, sono tutte rivissute lì, e c'è già una spiegazione, l'origine, l'esempio del Virus T, insomma Resident Evil 2, Tyrant, sono tutte queste cose che forse vedranno la luce in questo gioco, forse, chi lo sa. E parlando dell'aspetto tecnico del gioco, l'Essentivo 8 vi recupererà lo stile, il motore grafico Rangine dell'Essentivo 7, quindi già parte da una buona base grafica, ma sembra davvero andare oltre il 7, quindi sarà davvero un gioco di nuova generazione, e il gioco è impostato su un gameplay simile al 7 appunto a una prima persona, su Valor, la prima persona che però ci fa più vivere l'ansia, l'angoscia, il dolore, la rabbia di Ethan, in questo, diciamo, questo gioco di horror, quindi anche più, molto più emozionale, molto più spaventevole in questa, diciamo, visuale prima persona, ma se c'è qualcosa che forse pecca in questo gioco, è la voce doppia, il personaggio di Ethan, che ho visto già in qualche demo, ho visto già anche in qualche gameplay di qualcuno, insomma, che non è davvero, non adatta al momento, visto che si tratta un momento davvero tragico per una persona come Ethan, che mi sembra un ragazzino ucciso da fuori, detto anche da altri, ma io, sinceramente, non mi piace la voce, non mi convince la voce di Ethan al personaggio, che mi immagino, chiaramente è tutto il mio ragazzo, ma io mi immagino il personaggio, un grande uomo così, è stato tutto, tipo una voce un po' più profonda magari, non lo so, non lo so, io la penso così. Beh, che deve concludere? Sentivo l'otto, Village, usciate dal temaggio, io sono davvero euforico, usciate per tutte le platform, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X, Rese, E1, e per computer e anche per Stadia, quindi un po' tutte le console dependerà, e vedremo se questo sarà davvero il primo gioco da considerarsi next-gen, o magari, appunto, almeno un miglioramento rispetto ai vecchi giochi che sono stati un po' deludenti dal parto grafico alla potenza del gioco, sì, forse il caricamento veloce è stata una grande innovazione, ma noi vi vedete anche, cioè, se non una spesa 50€ per una nuova console, vi vedete anche un bel cambiamento, non so che spendere di più per i giochi, e c'è un cambiamento più breve, vogliamo molto di più, e speriamo che finalmente le nuove console siano sfruttate al massimo, vedremo un po' con aspettarci, ma fino a qui vi sono di chiacchiere ad hoc, quindi invito a lasciare un like, a commentare di la vostra, cosa pensate, cosa ne dite del gioco, in quanto non l'avete fatto, iscrivete al canale e attivate le campanelline, perciate le notifiche dei video che usciranno, e vi ricordo anche se mi su Twitch, dovevo fare live, e su vari social come Facebook e Instagram, così per sapere di più sul lavoro, detto questo ragazzi, al prossimo episodio, con il vostro mitterri, passo e chiudo.